La giornata sta andando bene. Diciamo che il lavoro che hanno fatto gli uffici tecnici è stato eccezionale. Dieci giorni fa non era per nulla scontato che noi potessimo chiudere una serie di partite. Tutte le ricognizioni sono state fatte nel rispetto delle norme della legge, ascoltando anche le opposizioni, cercando di recepire i consigli da dove venivano. Però al di là di quelli che possono essere i meriti della politica, un plauso va fatto proprio al lavoro istruttorio e della struttura tecnica. Per quanto riguarda il resto, siamo in una fase di passaggio a metà consigliatura che è strategico, non per noi, è strategico per tutta l'Italia, perché aver lavorato per riuscire a ottenere una norma per cui non fossero i cittadini per il tramite dei comuni e della loro impossibilità di rispondere alle loro esigenze a pagare il prezzo della crisi. È stata una battaglia politica enorme. L'Anci è stata compulsata da noi, è stata avuta anche un'ipotesi di lavoro molto seria presentata da Luigi De Magistris, che poi è stata coltivata ed è stata accettata dal governo, così come era stata giudicata positivamente in bozza anche dal governo Gentiloni. Perché è un atto necessario, è un atto giusto, è un atto per cui i cittadini non possono pagare i deficit di uno Stato che non riesce a redistribuire la ricchezza nella maniera giusta.